E' stato presentato un piano operativo con quelli che sono gli obiettivi che vogliamo portare avanti, che vogliamo raggiungere, con quelle che sono anche le tempistiche. Quindi oggi tutti i sindaci del distretto hanno un calendario molto preciso di quelle che sono le attività che noi porteremo avanti con quelle che sono anche i termini per concludere tutti gli impegni che stiamo assumendo, comprese anche tutta una serie di attività di ristrutturazione, di miglioramento, che comunque sono, parliamo, di oltre 20 milioni di euro che sono stati stanziati per migliorare tutta l'attività dell'ospedale di Saronno. Quindi non abbiamo nascosto quelle che sono le difficoltà che ancora abbiamo, che sono le difficoltà purtroppo tipiche di molte zone del nostro paese che riguardano le risorse umane. Quindi abbiamo ancora dei problemi per quello che riguarda gli anestesisti, in particolare per quello che riguarda il personale, i medici del punto soccorso. Queste sono...